Non posso dire di essere soddisfatto del risultato sicuramente, i ragazzi è andato tutto, eravamo in grossa difficoltà numerica, abbiamo giocato qualcuno che non sarebbe andato tutta settimana, abbiamo giocato a pari contro la corazzata del campionato, faccio comunque un applauso ai miei giocatori e anche alla squadra del Serie perché è riuscita a venire a prendersi tre punti a casa nostra.